Il corso Scopri, sviluppa e potenzia le tue capacità con la mentalità vincente è progettato per aiutarti a trasformare i tuoi pensieri limitanti in risorse per il successo. Attraverso strategie per sviluppare una mentalità proattiva e orientata alla crescita, ti fornirà gli strumenti per affrontare sfide e raggiungere i tuoi obiettivi con maggiore consapevolezza e soddisfazione. Con un focus su autoconsapevolezza e comportamenti efficaci, questo percorso ti permette di esprimere appieno il tuo potenziale, vedendo il cambiamento come un'opportunità di evoluzione personale e professionale. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi dirigenti.